Ciao da Mr Helmet, vi racconto la storia di Davide Speed Up Bosco Scuro e Golia KTM con finale alternativo, diventano amici invece di prendersi a sassate. Se ti piace tutto questo iscriviti al canale, attiva le notifiche e scopri come puoi supportare Mr Helmet attraverso lo shop, attraverso le donazioni, i super stickers e i super grazie e l'abbonamento a Mr Helmet. Una volta spendevamo 10 euro al mese per le riviste, oggi a partire da 6 centesimi al giorno, puoi supportare un'informazione libera con news praticamente quotidiane. Da una notizia che non ho tirato fuori io, ma l'unico sito che poteva farlo, ovvero Speed Week, che praticamente è KTM Red Bull, sono partito con alcune indagini, valutazioni, ho fatto le mie ricerche e quindi posso ipotizzare quanto segue. KTM sta per fare un'altra collaborazione. Le acquisizioni, o quasi, si chiamano così perché altrimenti poi la gente si offende. KTM sta per collaborarsi dentro Bosco Scuro Speed Up, per chi le conosce ancora così. Bosco Scuro non si offenderà perché è una persona intelligente. Una delle persone che io stimo di più nel motociclismo racing, da lontano, perché non lo conosco. Vi racconto una breve storia. KTM faceva la Moto 2, poi nel 2019 ha mollato. I team KTM sono tornati sulle Kalex, I.O. e sulle Moto 3 di KTM Tech 3. Pyrer Mobility KTM adesso è in Moto 2 con tre marchi. Nessuno lo fa. KTM, Gas Gas e Usquarna. Eppure nessuno di questi marchi è un marchio KTM. Tutti usano Kalex. KTM di fatto in Moto 2 non è un costruttore, non esiste. Può vincere tutti i titoli tranne quello. Invece la Small Factory di Bosco Scuro Speed Up è come se lo è e vince anche le gare. Pyrer lo ha confermato a Speed Week. Luca Bosco, sì, passo dopo passo, abbiamo stabilito tutti e tre i marchi del campionato del mondo Moto 2. Ora abbiamo trovato una soluzione pulita in entrambe le classi con il team Intact e Peter Oettel per Usquarna. Questo ci mette in una posizione molto pulita con Usquarna nel campionato del mondo. Allo stesso tempo Luca Bosco Scuro è un produttore, è un proprietario di un team che fa un lavoro serio ed è competitivo senza dubbio. Il nostro direttore del motosport, Pete Beyrer, sta negoziando con lui. Fonte Speed Week. Perché io cito le fonti. Vediamo cosa dice Peter, o meglio, chissà cosa pensa dopo che ha mollato la Moto 2, perché costava quasi come una Moto GP, dato che se costruisci tu i telai in Moto 2 il gioco ti costa 4-5 milioni, forcelloni, e adesso si trova a spendere cifre non troppo lontane con le Kalex, rimanendo senza niente in mano. A KTM servono i telai, a Bosco Scuro serve tutto il resto. A partire dai finanziamenti, non c'è niente di male. Quindi a KTM e Bosco Scuro torna comodo. Si incastrano benissimo. E la bravura di Bosco Scuro è dimostrata da Lopez e Aldeguer. È anche un ottimo talent scout. Poi c'è la faccenda VP, e questa ve la spiego io, insieme a tutta la faccenda Kalex. Vi dico una cosa, sui contratti Kalex ci sono scritte un sacco di cose. Una di queste è che non si possono assolutamente usare sospensioni VP, che è un'azienda di KTM. L'altra non scritta, ma vera, fidatevi, è che nel box non ci possano essere tecnici KTM, solo manager. E poi c'è un problema di soldi. Kalex in Moto2 è praticamente un monopolio. Quando hai un monopolio, il prezzo lo fai tu. Però non fai solo il prezzo, fai anche il catalogo delle racing parts. Se sei un cliente Kalex, devi comprare gli aggiornamenti Kalex. Lo dico meglio, se Kalex fa gli aggiornamenti e vuoi stare davanti, tu li devi comprare. Kalex ogni anno tira fuori telai, forcelloni e tu spendi milioni. Spendi meno che se li sviluppassi tu, ma non è mai roba tua e corri un monomarca. Ti ammazzi per diventare fornitore in MotoGP, in Moto3, compri le aziende e così. E poi in Moto2 sei un cliente che non può usare la sua azienda di sospensioni. E quindi questa perde soldi e un'occasione per sviluppare. Ecco cosa fa KTM secondo me. Mette le mani su SpeedUp, bosco scuro. KTM investe denaro e ci mette le sospensioni VP. Rumor numero uno. KTM VP sta già lavorando su sospensioni per la Moto2. Ma KTM l'ha decisa da sola questa mossa, quasi. Sembra, rumor, ci sia stato un meeting in cui molti team Moto2 si sono lamentati dei costi sempre crescenti di Kalex che in quanto monopolista decide i prezzi e decide gli aggiornamenti. L'unico che può fare qualcosa in questo ambito è KTM. Ok, KTM e Bosco Scuro SpeedUp, Davide e Golia. Rumor numero due. La tentazione di far provare le Bosco Scuro agli altri clienti KTM, diciamo, con il brand KTM, c'era già nel 2022. La tentazione. Aveva causato un tentativo, poi non è andato a buon fine, si dice. Nel 2023 succederà anche questo. Grazie a tutti, continuate a seguire Mr. Helmet e un saluto. Ciao ciao.